Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a StumbleGuys, avete capito bene, giocheremo a StumbleGuys. Ok, prima di tutto andiamo a mettere la mia scuola. Andiamo in partita e giochiamo. Andiamo in partita e giochiamo a StumbleGuys. Andiamo ragazzi, saltiamo, andiamo, andiamo, saltiamo così, abbiamo sbattuto, non fa niente. No ragazzi, ragazzi, ragazzi non mi qualifico forse, ma penso di sì. Mi sono criticato pure fuori ragazzi. Vediamo alcune persone, è caduto, e noi si qualificiamo. Non, 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 non. Come è male, quando? Quando ho avuto, come è male? Ragazzi andiamo. 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 Andiamo, andiamo, giriamo così, facciamo così, e ci qualificiamo. Ok ragazzi, proviamo a vincere questa bellissima finale. andiamo ragazzi forse vinciamo ok andiamo andiamo corriamo ragazzi corriamo ragazzi l'abbiamo pure andiamo la vinciamo con la mia skin nuova e siamo a 88 io chiudo poi il video ciao ciao ciao